Mi ti è l'ultima volta che sei stato qui, è stata una stagione straordinaria, adesso ritorni, cosa pensi di questa stagione anche partendo dai tuoi ricordi? Ho grandi ricordi, emozioni, è stata una stagione pazzesca, quando sono arrivato in macchina e sono entrato dentro la città, nella mia mente sono ritornati tantissimi immagini, tantissimi ricordi. Qui la gente è straordinaria, c'è tutto per far bene, è una situazione tranquilla dove un giocatore si può esprimere al meglio. Una stagione diversa da quella che vi aspetta, una stagione che vi vedrà tornare in campo dopo tanto. È una nuova esperienza per tutti, una stagione diversa, senza tipoti, ritorneremo in campo dopo tantissimo tempo di stop e tutti dovremo abituarci alle nuove condizioni, ma questo non è un problema, questo è Treviglio, tanti giovani, voglia di crescere, zero pressioni, noi dovremo sfruttare la corsa, l'energia, giocare buone partite e sono sicuro che potremo fare bene. Sono contento di stare qui con questi ragazzi, abbiamo un nuovo allenatore e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui. Un messaggio per i tifosi. Io so che è dura per loro non poter venire alle partite, spero di poterli vedere presto al palazzetto e fin quando questo non sarà possibile, noi proveremo a vincere il maggior numero di partite per loro.